Siamo felici di ospettare questa terza edizione del Festival Moonland, grande musica pop e rock dalla nostra centralissima piazza. Sarzana è viva, vivace, piena di eventi, ripartiamo così dalla cultura e dalla musica. Noi siamo molto felici di partecipare con questo evento che si chiama Moonland Festival all'edizione numero 3 quest'anno 2021 al cartellone sarzanese per la cultura. Dopo l'edizione del 19 ovviamente il settore nostro è stato colpito dal covid in maniera particolare per cui il 20 e il 21 sono state fatte delle edizioni compatibili con l'emergenza. Come si diceva prima nella piazza è possibile mettere solo fino a mille persone, ci sarà il distanziamento, non è necessario green pass oppure tamponi o altre cose perché il concerto è previsto con sedie e distanziato a sedere. E quindi dal 19 partiamo con questo programma che prevede con la pesce di Martino che sono stati per molti aspetti vincitori morali con una canzone di Sanremo, con una canzone particolarmente suonata nelle radio, negli stream, su YouTube. Ci sarà poi Venerus che è un artista contemporaneo, un nuovo, un artista molto legato alla black music e al cantautorato italiano e che sta avendo un successo enorme con il suo nuovo tour. E Niccolò Fabi che è un classico diciamo della scuola romana, quella che lo ha visto insieme a Max Gazet, a Silvestri, insomma creare quella nuova scuola romana che ha un po' aggiornato il linguaggio di quella classica, di De Gregori, Venditti e altri grandi artisti. Per cui un artista di qualità sopraffina con anche un gusto per la musica internazionale, anche la musica scandinava, con una ricerca sonora importante e lui sarà il 23 luglio e questo è il cartellore.